ciao aleandro è stato difficile trovarci alla fine ce l'abbiamo fatta allora tutta la parte iniziale ragazzi scusate per gli altri un piccolo tutorial su baby and gone alivio delle zeppeli la sequenza delle note che cantano non la ricordo perché un pezzo non sono da dieci anni credo però tu la facevi benissimo poi dopo viene il bridge e poi viene quella parte e poi riprende di nuovo che dice per un quarto d'ora babe 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 allora questa parte è la minore praticamente porta avanti la minore fino all'ottavo tasto ottavo e poi sesto è sempre la minore ok se usi il plettro fai io uso le dita quindi faccio una specie di rasgato rasgato flamenco ce faccio ok paradoppio e poi e basta queste se hai ancora dubbi fammelo sapere tranquillamente e scrivi sul gruppo non scrivere su whatsapp perché sul gruppo mi arrivano le notifiche whatsapp mediamente mi arrivano un centinaia di notifiche al giorno quindi quando posso leggo ma mi è davvero difficile rispondere ciao aleandro